Cambiamo adesso argomento, parliamo di welfare aziendale, di benessere dei lavoratori, si è anche discusso di questo all'interno della Cittadella dei Giovani, qui nella nostra Alcamo, nell'ambito del convegno dedicato all'importanza delle risorse umane e nelle realtà aziendali del nostro territorio e non solo. Ascoltiamo dapprima cosa prevede proprio il welfare, di cosa si tratta, per poi scendere nel particolare con la testimonianza tangibile di una bella realtà di cui la nostra Alcamo è chiaramente orgogliosa. Ascolteremo infatti Ignazio Cusumano, titolare di ABC Strategie. C'è una tendenza nel diventare più sostenibili, più attenti al sociale da parte delle aziende, non è più solo profitto, ma si cerca di innestare altri meccanismi che possono creare prospettive interessanti. Anche perché rispetto al passato, ci si rende conto ormai che quanto più il dipendente e la tua popolazione aziendale è contenta di stare in azienda e di lavorare per te, tanto più si portano poi risultati interessanti. Quindi c'è sicuramente una prospettiva sana di natura risorse umane per creare una popolazione e un clima aziendale positivo che spinge in un'ottica positiva poi l'azienda. Ma c'è anche un tema di oggi, tornando al dollaro a cui faceva riferimento lei, per darle un dollaro in più in busta paga, diciamo così, quel dollaro in realtà costa molto di più all'azienda. Si torna a parlare appunto di temi di costo del lavoro e punione fiscale. Questi strumenti permettono di dare un dollaro che è convertibile in servizi e che costa meno all'azienda, ma che per il dipendente ha una valenza uno a uno. Quindi è un modo per creare clima aziendale da una parte e per in qualche modo intervenire, mettere un qualcosa nelle tasche dei tuoi dipendenti, qualcosa che possa costare un po' meno a te, ma avere un grande valore per il tuo dipendente. E' lo strumento giusto per fare una serie di cose interessanti e i trend sono tutti a conferma di questo. E come risorse umane, che esperienza ha? Come cercate un attimino di trovare quella che è una linea unanime che poi faccia crescere proprio l'azienda? Uno dei strumenti più importanti che oggi un'azienda può mettere in atto, così come noi nella società di consulenza mettiamo in atto, è il sistema del welfare. Il welfare aziendale oggi credo sia un'arma potentissima a favore dei dipendenti per farli stare bene, per fare in modo che le famiglie dei dipendenti stiano bene, non solo i dipendenti. Non basta più pensare al dipendente come un soggetto che è all'interno dell'azienda, poi in qualche modo non ci interessa più quando esce fuori. No, no, in realtà il dipendente per venire in azienda sacrifica qualcosa di suo e quindi questo va riconosciuto e bisogna fare in modo che la famiglia del dipendente stia pure bene all'interno dell'azienda. E questo welfare riesce in qualche modo a coprirlo bene, se è fatto con criterio ovviamente.